quasi finito l'operazione contraria a quella che abbiamo appena fatto tanto qui posso mettere in piccolino anche questo punto tanto che aspettiamo ecco, ha rimosso e qui è rimasta un'icona col punto di domanda perché c'è l'opzione mantiene il lancio ma in realtà non c'è nulla da far partire l'icona diventa chiara e scura ma non c'è il programma da far partire e allora lo togliamo per far pulizia e niente, il concetto che volevo mostrare appunto è quell'opzione proprio di integrazione con Unity che appena si schiaccia e installa per un programma, attenzione, che ha un'interfaccia grafica può sembrare ovvio ma insomma avete visto la differenza 7 zip, linea di comando, niente opzione AB Word interfaccia grafica, opzione vuoi aggiungere l'icona launcher, sì o no e questo l'abbiamo visto poi c'è un'altra cosa interessante che per il momento è diciamo un po' come le barre di scorrimento dinamiche di cui abbiamo già parlato vedete le barre di scorrimento dinamiche che sono diciamo una tecnica in prova un'opzione in prova ce n'è un'altra molto interessante ma da considerarsi in prova che è questa il test drive praticamente al momento per un certo numero di programmi fra i più usati c'è la possibilità di testarli su un server remoto sul quale sono già installati prima di installare sul nostro pc esempio AB Word proprio lo stesso AB Word ecco che ho proprio citato qui come esempio ha questa possibilità quindi dico ma voglio vedere com'è prima di installarlo quindi vado sotto ulteriori informazioni prima di tutto così mi informo per benino su cosa AB Word vedo che è gratuito e non è a pagamento posso vedere un suo screenshot dico ah ecco sì un classico editor di testo però vedete che c'è sotto lo screenshot un pulsante test drive ecco se premo questo pulsante notate che AB Word adesso non è più installato sul mio sistema quindi non lo è però schiaccio quel pulsante dopo un attimino esce la parola connessione 10, 20, 30% eccetera eccetera aspettiamo un attimo che si carica quindi sta preparando la connessione al server remoto gli sta inviando ecco le informazioni su che cosa deve mostrarmi in questo momento siamo connessi ad un server remoto che mi mostra già aperta una finestra di AB Word e voilà interfaccia in inglese ma questo poco male però in realtà questo è veramente questo è AB Word funzionante su un server remoto che mi permette di provare e valutare un applicativo prima di installarlo sul mio pc e questa è veramente veramente una funzionalità molto molto interessante e affascinante perché a parte il fatto di dover avere una rete internet abbastanza insomma capace per poter fare in modo che quando usiamo gli applicativi rispondano anche in modo decente cioè una rete internet troppo debole non permette un gran lavoro insomma con questa funzionalità però vedete che se avrà un futuro questa opzione e verrà ampliata anche l'offerta di programmi da provare è eccezionale perché magari leggendo la descrizione sembra quello che abbiamo bisogno poi provandolo no oppure il contrario abbiamo dei dubbi della descrizione beh proviamolo così vediamo se è veramente quello che mi serve ecco quindi poi alla fine chiudo questa questa sessione remota che che non mi ricordo più nx non so se si vede sì questa qui con un'icona che non è neanche riconosciuta comunque nx è un tipo di programma appunto per gestire queste connessioni remote si preme qui viene scritto un piccolo messaggino dove si dice vuoi veramente chiudere si dice sì ed è interrotta la prova qui è tornato il pulsante test drive possiamo riprovare se vogliamo qui sparita l'icona appunto di domanda e il giro è questo però sul mio pc non ho toccato non ho sporcato assolutamente nulla mi sono connesso al server remoto e ho potuto provare pienamente potevo anche starmene lì quanto volevo pienamente l'applicativo e poi decidere sì me lo installo o no non me lo installo la premessa almeno allo stato corrente delle cose è che bisogna installarsi un pacchetto prima di poter usufruire di questa funzionalità il pacchetto si chiama Q questo qua QTNX quindi si può venire qui software center si cerca QTNX io ovviamente l'ho già installato eccolo qua si installa si chiude software center si riapre software center e per quegli applicativi che lo prevedono come ho già detto esce appare quel pulsante sotto la zona screenshot dove non è previsto ovviamente abbiamo visto anche alcuni applicativi non c'è il pulsante però in questo link che vedete qui potete vedere alcuni dettagli su questa funzionalità e anche l'elenco degli applicativi che attualmente offrono questa opzione quindi a questo link trovate tutto quello che vi interessa per esempio un altro link se non sbaglio è proprio quello di l'analizzatore del disco qua quello che abbiamo usato prima per la dimostrazione c'è il trascinamento dell'icona l'analizzatore del disco che non mi ricordo mai come si chiama l'ho visto prima per quello che lo sto cercando software installato ecco qua ero già posizionato test drive anche per questo quindi tutti gli applicativi che hanno questo pulsante permettono ecco addirittura ecco ho fatto bene a fare una seconda prova perché prima si è aperto direttamente a Bivore senza chiedermi nulla adesso mi dice secondo quale distribuzione vuoi usare questo software perché in questa disposizione server remoto è possibile fare click su edubuntu che è una derivata di ubuntu per l'ambito educativo con una versione 10.10 11.4 ubuntu 11.4 che è poi la nostra unity qui dove stiamo usando nella virtual box quindi possiamo scegliere addirittura in che ambito di interfaccia grafica di distribuzione usare e provare quello software qui quindi si sceglie si fa ok e via che riparte la connessione né più né meno di prima però ecco mi fa piacere aver provato una seconda volta per mostrarvi anche quel dialogo di scelta della distribuzione nella quale vedere l'applicativo agire funzionale eccoci qua ecco qua il nostro analizzatore di disco e qui adesso non stiamo a non stiamo a vedere più di tanto però il solito grafico l'analizzatore di disco qui potete vedere ecco un'altra vista grafica possiamo ingrandire la finestra per vedere meglio ecco eccetera eccetera voilà possiamo chiudere l'applicativo chiudere il contatto remoto si ed è come prima ecco principio l'avete visto ed è molto 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 interessante potrebbe essere una funzionalità molto utile speriamo che abbia un futuro si presume anche qui di sì un po' come le barre equilaterali perché anche queste hanno la loro utilità e sono anche simpatiche direi graficamente simpatiche ecco questo era un po' dei punti interessanti di software center di Ubuntu che ci tenevo a mostrarvi in ambito della presentazione nell'ambito del tutorial di presentazione di esplorazione di Unity della nuova Unity perché software center avete visto ha a che fare delle integrazioni dirette anche con Unity stesse chiudiamo e siamo arrivati quasi alla fine l'ultima parte che voglio mostrare è implica l'abbandono di Unity 3D come sessione quindi farò un termine a sessione tra un attimo per poi entrare come 2D giusto per dare una brevissima occhiata all'imitazione senza accelerazione grafica di Unity leggiamo la nostra scaletta velocemente la nuova interfaccia Unity è parte di Compis quindi richiede per forza accelerazione questo l'ho già avuto modo di spiegarlo la soluzione classica di nome sembra è destinata ad essere comunque temporanea per questa versione di Ubuntu 11.04 quella di fine aprile perché poi quanto pare Unity 2D ha preso così bene piede diciamo così promettente come progetto che potrebbe essere la soluzione di fatto come alternativa all'accelerazione grafica per avere Unity 2D è sufficiente cercare nei repository il pacchetto Unity 2D lui a sua volta si trascina le dipendenze e poi appare appunto nel menu delle sessioni appare come voce per poterci entrare quindi come chiusura di questo lungo lunghissimo tutorial di presentazione di Unity vediamo diamo un'occhiata una preview anche sulla sulla nuova Unity 2D allora chiudiamo la nostra scaletta facciamo termina sessione ciao ciao Unity 3D sì e attendiamo che appaia la login ecco sta arrivando sicuramente sta chiudendo la sessione di prima e dovrebbe apparirci ecco qua la nuova login voilà scelgo l'utenza e però adesso attenzione qui in basso dove non si guarda quasi mai quando è tutto a posto qui in basso ci sono i tre menu di sessione dove si sceglie la lingua la tastiera e il tipo di sessione grafica nella quale entrare questo menu può essere variabile per ognuno chi ha solo sessioni basate sul nome avrà Ubuntu 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 qualcuno potrà avere KDE quindi non so se esce Kubuntu KDE si può aggiungere quello che si vuole insomma LXDE eccetera eccetera XFC insomma qualsiasi interfaccia grafica che è presente nei repository può essere installata e poi appare va a popolare questo menu di sessione allora a parte queste voci tipo recovery console safe mode che sono voci di quando si è in difficoltà quindi speriamo di non doverle mai usare c'è la voce standard di default che è Ubuntu quindi Unity 3D è Ubuntu punto e basta poi c'è Ubuntu Classic che è quella di Gnome appunto senza Unity però con gli effetti grafici compits attivi quindi ancora una volta con i driver che devono supportarlo e poi ecco questo è l'Ubuntu Classic noFX che appunto non ha effetti grafici quindi quando la login noi diciamo che comunque vogliamo Ubuntu ma il sistema si accorge che non può sopportare Unity 3D si scambia da solo fa uno switch automatico sul classico senza effetti noi abbiamo già installato Unity 2D e vedete che è apparso fra le scelte del menu quindi invece dell'Ubuntu che è Unity 3D che abbiamo visto finora scegliamo Unity 2D poi mettiamo la nostra password ed entriamo ecco qua sta per arrivare eccolo qua vedete che a prima vista dovete ammettere anche voi che praticamente è la stessa cosa che è un'illivea che è la stessa cosa è la stessa cosa che è un'illivea